Ancora una volta la tua squadra ha dimostrato che quel caso sa pareggiare e sa pareggiare anche senza superiore. Una partita che alla fine pareggia e sta bene al Cittadella ma non sta bene al Crotone. Lei dice a me che mi interessa nel Crotone. Sicuramente è un risultato che per quello che è stato fatto in campo rispecchia abbastanza. Non credo che nel Cittadella e nel Crotone oggi meritavano di vincere la partita. È stata una partita combattuta sicuramente ma con poche occasioni da gol e poche situazioni in cui le due squadre hanno creato situazioni particolarmente pericolose. Diciamo che le difese sono state più brave degli attacchi però in questo momento dobbiamo accontentarci di questo risultato per quanto ci riguarda. Abbiamo perso l'ultima di andata contro il Palermo creando credo 10-12 occasioni da gol e meritando di vincere. Quindi oggi era importante riuscire a ripartire con un risultato positivo. Chiaramente riuscire a vincere a Crotone sarebbe stato importante. Però vincere in questo stadio contro questa squadra sicuramente non è facile e non è stato facile. È stata una partita molto combattuta e credo che alla fine il risultato sia giusto. Viste oggi chi voleva vedere una bella partita ha sbagliato città e stadio perché effettivamente oggi veramente di calcio giocato si è visto davvero poco. Questa è la prima domanda. Poi la seconda è cosa ci aspetta da questo mercato perché mi pare che si è attraverato anche con gli amici contanti oggi. Io dal mercato non mi aspetto niente. Credo che abbiamo una squadra che ha sicuramente qualche giocatore che è stato infortunato. Però chiaramente i giocatori infortunati recuperano. Sicuramente l'unica cosa sul quale dobbiamo intervenire è sostituire Rizzo che ha avuto un infortunio grave. il terzino-sinistro che possa dare un cambio come ruolo. Sicuramente non è stata una partita bella giocata o con tante occasioni da golo. Noi di solito siamo una squadra che crea molto, che ha capacità di essere propositiva, di proporsi spesso in fase offensiva. Oggi non ci siamo riusciti e credo che il risultato che portiamo a casa ci deve soddisfare. Grazie a tutti e salve.